Ciao a tutti ragazzi, lo sono Avertia per la Battle of Gaming In questo video sarò il primo a sciopare del pacchetto Inferno Allora, il pacchetto Inferno che include anche il piccone falce e scarlatta E l'avrà Luciferino Allora, come in ogni primo a sciopare, vi consiglierò la skin se comprarla o meno Vedremo un po' il pacchetto pure nel gameplay E vi darò consigli sul comprarla in generale Più vi farò vedere alcune combo con la skin Questa skin tra l'altro io l'ho presa in Season 8 Alla primissima uscita, perché io vi ricordo che questa è la skin di Season 8 Potete vedere dal fatto che non ce l'ho nei recenti Quindi, comunque, ai tempi costava 20€ Giustificato dal fatto che questo pacchetto vi dà pure 2000 VBAC Sotto forme di sfide, se non ricordo male Nonostante quello, le sfide sono molto facili Dovrebbero essere delle sfide giornaliere O forse le hanno reworkate Comunque sono sfide semplici, come al solito questi pacchetti E adesso costa solo 12€ Che per quello che vi dà, secondo me, tanta roba Nonostante, comunque, non vi dia un backup Che la skin sia un po' vecchia, sì Non ha stili, sì Però è una skin proprio in pieno stile del capitolo 1 Questo è un pregio Quindi adesso, come in ogni prima sciupare Andremo a vederla nel gameplay E vi consiglierò se comprarla o meno Vedremo un po' i pregi contro di questo pacchetto In più vi farò vedere delle combo con questa skin Nel caso la decideste di acquistare Quindi rai un par d'altro tempo E andare in game Eccoci in game E mi fa un po' strano già Perché questa skin non l'ho usato da un sacco Comunque potete vedere che è la skin animata Che pure se oggi non sembra di sa cosa In season 8 era tanta roba Una skin animata È molto particolare Ovviamente questa skin si ispira a Jolly Da cui hanno tratto un sacco di altre skin In gioco e in cravatta Secondo me è comunque molto bella Allora, vediamo il sound del piccone Figo Vediamolo sul legno È molto fino Proprio da falce Che strano Perché questo è il suono Che dovrebbe fare il metallo No? Una falce di metallo Invece questa sembra quasi fatta di plastica Questa cosa È far ridere Ok Vabbè in generale ci sta Comunque questo pacchetto Include pure La wrap luciferino Mi fa molto ridere come nome Cioè la mimetica E adesso Come al solito La vedremo su delle armi Vedremo la skin Mira Se dà fastidio il fuoco Effettivamente E guardate la skin già al buio È totalmente diverso Secondo me è molto molto bella Nonostante vi vedono da 3 km Sì Però è molto figa E comunque di corporatura La skin è molto piccola Quindi volendo si può usare pure per Non è una skin di quelli ingombranti Capito? E non dà Propriamente fastidio le fiamme Alla visuale Il problema è che vi fanno vedere dappertutto Allora Prendiamo un fucile Vediamo la wrap Allora si dovrebbe vedere La wrap secondo me non è niente di che La mimetica Ci sta eh Però non è niente di che Ne hanno fatte di più belle Sicuramente non è animata È statica Comunque non è neanche malissimo Quindi direi di vedere i veicoli Alcuni veicoli Come ci sta questa mimetica E poi di tornare alla lobby Allora direi di vedere prima il quad Ecco Qui si vede molto meglio Questa fantasia quasi ad alveare Però è molto figa Secondo me ci sta Non rispetta propriamente Lo schema di colori della skin Perché è un arancione Invece la skin tende più sul rosso Però secondo me è molto figa Poi direi di vedere adesso Il quad Se non ricordo male Questo No il golf cart Quello è il quad Mi confondo sempre Allora Anche qui si vede molto meglio Molto figa Molto figa E vediamo anche La barca Se vi piace Su un veicolo in particolare Mettete in pausa il video Per vederla meglio Eppure sulla barca Si vede molto bene Secondo me ci sta molto Questa mimetica Nonostante comunque sia Una mimetica verde Quindi non è Che sia chissà cosa Però per essere Una mimetica verde Secondo me è una bella mimetica Quindi io in sé per sé Vi consiglio di shopparlo Questo pacchetto Perché è veramente Conveniente Perché pure solo per i vbac Perché solo per avere 2000 vbac Dovresti spendere 16 euro Invece ne spendete 12 Che Su forte Non è neanche tanto 12 euro E tanto Con questi vbac Potete prendervi Sto pass Il prossimo Volendo anche Poi se a quel punto Vi consiglio Però comunque Secondo me Come skin È consigliatissima Pure perché Potrebbe non tornare Per un bel po' E quello è il punto So che questa skin Piaceva a tanti Purtroppo non hanno avuto La possibilità Di comprarla Adesso è tornata Quindi spero che Molte persone Se la compreranno Così io potrò Aiutarli con questo video Comunque Ritornare alla lobby E vedere degli abbinamenti Con questa skin Ecco c'è la lobby Ma prima vi volevo far vedere Questa schermata di caricamento Che era del pass battaglia Di season 9 Che a me è sempre piaciuta Dove proprio ritrae Questa skin Che sembra più Una versione malvagia Di jolly Se ci pensate Perché comunque C'ha la maschera di jolly Sopra la schivania Quindi è molto verina Come background Ci sta Allora Vediamo le combo con la skin Perché il backpack non c'è Essenzialmente Non gliel'hanno dato Gliel'avrei ridato Con il rework E chi l'aveva comprato prima Gli regalò il backpack Allora A cartella regalo Ci sta Perché comunque Riprende questo rosso E riprende pure il giallo Pure se il verde È un po' fuori logo Ok In generale tutta la roba Che ha a che fare Col magma Ci sta bene Questo riprende i guanti Molto bene Pure scarpe Spadone Capone Ok Willy Deadpool Questo ci sta Questo lo usavo Sempre come combo In season 8 Mi ricordo Che non avevo Molti backpack Allora Questo Sì Anche questo Allora Poi le ali Focate Il backpack di Superman Ok L'arco coccola Oddio Perché è statico adesso? Prima era più morbido Strano Strano Nelle prime season Era così Poi l'hanno ammorbidito Per un sacco L'hanno cambiato Questo secondo me Regale a combo definitiva Non ci sta tanto bene Con lo schema di colori Comunque lo riprende Però regà Ha troppo senso È fighissima Mi piace un sacco Sì E anche queste Che sono altri backpack Che hanno che fare col magma Allora regà Non c'è tant'altro da vedere Perché essenzialmente La skin è quella Potrei farci un video combo a parte Cioè dovevi farci delle combo Con la skin Con il backpack E con la mimetic Se questo video Essendo che Vi devo ringraziare Perché gli ultimi due video Anzi tre Sono andati molto bene Dal mio ritorno Quindi hanno raggiunto una Addirittura Le 150 views In meno di due giorni Quindi molto bene Se questo video raggiunge Le 100 views Vi porto O almeno le 80 Però Preferibilmente 100 Si prova Ci si prova Vi porterò un video combo Su questa skin Quindi per il momento Niente a trahirvi Lasciate un bel like Dallo solare Out